Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog, sono sempre Luperama e oggi vorrei davvero ringraziarvi per questo grandissimo traguardo Non ho ben capito come sia potuto succedere ma siamo passati che la settimana scorsa stavamo all'incirca 250 iscritti Oggi siamo ufficialmente ben a 450 iscritti, abbiamo fatto 200 iscritti in una settimana Sembrava impossibile ma ci siamo riusciti, quindi sei, dagli è così Allora, volevo parlarvi del fatto che, come avete potuto vedere, ho messo il video 5 cose gambe, 5 cose cose dei videogames E ha avuto davvero molto successo, infatti nel giro di due giorni ha già raggiunto 170 visualizzazioni Che mi rende veramente felice perché sono contento per quello che faccio e mi piaccia Ho creato la rubrica delle 5 come playlist, proprio perché questa è la serie delle 5 cose che Infatti ho deciso che uscirà una volta a settimana alle 5 Lo so, si è buffa come cosa Ma per non parlare poi dell'ultimo vlog Ah raga, in 6 giorni ha raggiunto le 214 visualizzazioni Ma nessun video su questo canale ha raggiunto così in breve tempo così tante visualizzazioni Sono davvero contento Guarda, sono quasi sicuro che al prossimo video addirittura forse potremmo raggiungere le 300 visualizzazioni E il che ragazzi non è cosa da poco, non è veramente cosa da poco Come secondo punto voglio parlarvi del fatto che quando raggiungerò i 500 iscritti Se mai li raggiungerò non lo so, però spero proprio di sì E spero che succederà a breve E volevo fare un vlog un pochino più particolare Rispondendo alle vostre domande che mi scrivete sotto nei commenti Con l'hashtag Luperama Ho subito dopo a scrivere la domanda Molto semplice Semplice, semplice E tutto ciò volevo dirvi che come avevo promesso sto cominciando a comprare i pezzi del computer Infatti questo qui è il case Poi dentro ci sarà il masterizzatore Che dovrebbe essere questo E poi qualche cavetteria varia Però diciamo che i pezzi più importanti ancora non mi sono arrivati O meglio, devo ancora aspettare di comprarli perché preferisco che scendano un pochino di prezzo Visti che per colpa del Natale si sono un pochino alzati Però a breve penso che li comperò Quindi tra un mesetto massimo, un mesetto e mezzo dovrei riuscire a avere questo nuovo computer In tutto ciò davvero volevo ancora ringraziarvi di cuore Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi Lasciate un bel like sotto ogni video Un commento E seguitemi anche sulla pagina Facebook Condividete, condividete i video perché è la cosa più importante per farmi conoscere Mi raccomando, rimanete sintonizzati che tra qualche giorno uscirà il nuovo video sulle 5 cose Ok? Mi raccomando eh Non fate scherzi Ci vediamo Ciao